Ciao ragazzi da Vittorio, si è appena conclusa Napoli-Lazio, quarta di finale di Coppa Italia. Napoli vince 1-0. Prima di parlare dell'argomento principale, una cosa, Napoli-Lazio sono due squadre che si equivalgono. Una partita del genere viene di solito decisa dagli episodi, no? In campionato è stato l'erroraccio di Ospina, qui è stato l'errore di Ramos, Luis Felipe, che dopo pochi minuti si addormenta in aria e non marca in segne che segna. Quello ha deciso la partita. Poi parliamo dell'arbitro, perché, e se state nel mio canale Telegram, lo diceva anche un altro ragazzo prima, eravamo tutti sicuri che Massa avrebbe espulso un giocatore da Lazio dopo aver espulso il giocatore del Napoli. Espulsione ridicola, espulsione vergognosa, l'Eva prende solo la palla, non è mai fallo, invece l'arbitro fischia fallo e l'ammunisce e poi gli dà rosso perché l'Eva fa così. Adesso, se gli arbitri ammonissero tutti i giocatori che fanno così per un fallo, le partite finirebbero 5 contro 5. Massa ha determinato la sconfitta della Lazio con un arbitraggio pessimo. Un arbitraggio pessimo anche perché quando espelle il giocatore del Napoli per secondo giallo, ci mette 5 minuti per tirare fuori il secondo giallo perché si caca sotto, perché ha paura, non vuole espellere il giocatore del Napoli e infatti se vedete si gira intorno, cerca aiuto dal quarto uomo, il quarto uomo gli dice rosso, non puoi fare nient'altro e lui dopo 5 minuti che aspetta, tira fuori il secondo giallo per espellere Ias. Rosso nettissimo, non c'è neanche da discutere. Eppure Massa ci ha messo 6 minuti a darlo e poi subito dopo si è inventato il fallo per espellere l'Eva. Arbitraggio pessimo, arbitraggio ridicolo, arbitraggio che purtroppo ha condizionato questa partita a favore del Napoli e poi c'è gente che dice che Lotito è padrone del calcio italiano. Oggi se Lotito fosse stato padrone del calcio italiano, Massa non avrebbe mai spulso l'Eva, ma a caso mai ha munito Caillon per tutte le simulazioni, eccetera. Detto questo, la Lazio nel secondo tempo ha dominato la partita. La Lazio, nonostante questo, meritava di vincere anche oggi, perché nel secondo tempo ci sono due gol annullati fuori gioco e c'erano, un palo di immobile, altre quattro occasioni clamorose della Lazio non sfruttate. Quindi una Lazio che, nonostante tutto, ha giocato molto meglio del Napoli, meritava di vincere, ma ogni tanto il destino nel calcio decide chi vince e chi no e oggi ha deciso che la Lazio non avrebbe mai vinto. E così è stato, nonostante la Lazio abbia giocato molto meglio del Napoli, la Lazio perde. Perde per un'ingenuità clamorosa di Luis Felipe ad inizio partita e un arbitraggio imbarazzante. Un arbitraggio che ha condizionato in negativo la partita. Come ho detto già in passato, il Napoli sta giocando leggermente meglio rispetto a prima. Oggi in realtà il Napoli ha giocato benino nel primo tempo, nel secondo tempo è stato sul classato, però io, come ho detto all'inizio, il Napoli e la Lazio sono due squadre dai valori simili e quindi sono gli episodi. Il gol di Insigne, il rosso di Leiva, a decidere questa partita. In chiusura, un commento sui giornalisti Rai che sono stati veramente vergognosi. Io non so se il telecronista fosse un tifoso del Napoli o fosse un romanista che odia la Lazio, ma la sua telecronaca è stata imbarazzante. Faziosità a livello stratosferico, urlava quando attaccava a Napoli, quando attaccava la Lazio sembrava gli fosse morto il gatto. Ha detto che Acerbi aveva un braccio largo sul rigore che chiedeva a Napoli. Non era mai rigore in tutta la vita. Quando è stato stato dato il rigore alla Lazio non l'aveva visto, l'avevano visto tutto il mondo. Il fallo, il secondo rosso per il Napoli, non l'ha visto. Insomma, una telecronaca veramente imbarazzata. Ah, è riuscito a confondere più volte Acerbi con Parolo. Sono due persone completamente differenti. Come cavolo fai sbagliarti? Lo sa solo te. Comunque, Lazio che dice addio alla Coppa Italia. Vedremo adesso se in campionato riprenderà il percorso, anche perché domenica c'è il derby. E voi che ne dite? Scrivetevi al commento qui sotto. Ciao, alla prossima.